Buoni amici! Oggi, tra i migliori top, vi proponiamo uno dei modelli di punta del produttore di attrezzature WORX. Il modello Landride Robot Lommauer è riuscito a posizionarsi come uno dei rasaerba più efficaci sul mercato, ma ne vale davvero la pena! In questo video vi mostreremo le sue principali caratteristiche, in modo che possiate decidere da soli. Nella descrizione e nel primo commento sono presenti i link per l'acquisto, dove è possibile controllare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Siete pronti? Eccoci! WORX è una linea americana di elettroutensili e attrezzature per il giardinaggio. Da oltre 15 anni ci offrono la migliore tecnologia per le nostre case. Con oltre un decennio di esperienza, è un marchio molto redditizio nel mercato attuale. Cominciamo con una caratteristica importante di questo modello. Questo robot tagliaerba può tagliare aree fino a 2000 metri quadrati, può essere programmato tramite telefono cellulare, calcola l'area di taglio in modo rapido e semplice. Il robot suggerisce un programma di lavoro in base alle dimensioni del giardino. Il prodotto dispone di una tecnologia innovativa per il suo funzionamento. I tosaerba robotici tradizionali lasciano un'ampia striscia di circa 20 centimetri di erba non tagliata lungo il perimetro del giardino. Il piatto della lama di questo prodotto è posizionato il più vicino possibile al bordo, in modo da lasciare poca o nessuna erba non tagliata. Questa possibilità riduce il carico di lavoro. Un'altra caratteristica di questo modello è che, grazie agli algoritmi sviluppati dagli scienziati del controllo delle infestanti, si adatta alle mutevoli condizioni che influenzano la crescita dell'erba, come la temperatura, le precipitazioni, la radiazione solare e la nutrizione. Questi fattori si applicano alle specie erbacee e alla composizione del terreno. È un tosaerba robotico intelligente che protegge il vostro giardino. Ricordate che potete trovare il prezzo, le offerte e le recensioni nei link nella descrizione e nel primo commento del video. È anche un dispositivo in grado di proteggere la fauna selvatica del vostro giardino. Ci sono animali che escono dalle loro tane solo di notte. Con la funzione Save the Hedgehogs, il dispositivo non funziona di notte. In questo modo, non influirà sul normale comportamento degli animali che potrebbero vivere vicino alla casa o nel giardino. Come ultima caratteristica di questo prodotto, possiamo vedere il piatto lama flottante. Il nuovo piatto di taglio autolivellante del dispositivo regola automaticamente il piatto della lama per adattarsi alle irregolarità naturali dei giardini. In questo modo non solo si evita che il robot tagli troppo il prato, ma si evita anche che le lame colpiscano i rami eventualmente caduti a terra. Nel complesso, abbiamo qui un tosaerba molto completo, che è stato valutato positivamente da più di 4.000 utenti. Se vi piace potervi occupare del vostro giardino e volete farlo in modo semplice e corretto, questa potrebbe essere un'ottima scelta per voi. Controllatelo e valutatelo, potrebbe essere proprio quello che state cercando. Pertanto, possiamo solo consigliarne l'acquisto dal link presente nella descrizione. Avete dubbi su alcune di queste caratteristiche? Scrivete nei commenti e risolveremo il problema il prima possibile. Grazie per essere rimasti fino alla fine. Se il video vi è piaciuto, sosteneteci con un like e ricordatevi di iscrivervi per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima!